Ciao, sono Marco Berti, da Gliderit. Abbiamo produttosto un modello di glideri per circa 20 anni. Questo è il Swift 32. Non è un nuovo modello, ma è molto conosciuto per le sue performanze molto rapidi. È fatto per l'aerobatico. È costruito in tre versioni diversi. L'OD, che è mix carbonio e glass, è la versione più leggera. L'FS, che è full carbonio. E il PD, che è due livelli di carbonio sulle vini. Il modello è stato costruito con la velocità di speed come idea principale. Quindi, se stai cercando di fare qualcosa che avviene lentamente, non vedi questo Swift. Il Swift è costruito con le pinze sul basso, per il ride-around e il flop. Quindi, puoi avere il massimo deflection per diminuire la velocità quando avviene. Nel top, ci sono leppure per cercare il gap quando avviene, per le migliori performanze. Il modello è davvero davvero forte. Potete vedere che è una veglia molto forte di carbonio. Questo anno abbiamo presentato l'option extra light, per tutte le 3 versioni. Con l'option extra light, puoi diminuire il peso di circa 15%. È abbastanza. E questo è stato fatto usando tecnologie diversi bambini, senza diminuire la fortuna dei modelli. Quindi, significa che l'O.D. extra light ha la stessa linea di carbonio e liceo che hanno l'O.D. standard versione, ma il peso è di 15% meno. Poi possiamo offrire questo modello anche in versione completata, ma logicamente bisogna pagare il lavoro che noi facciamo. Potete avere diverse opzioni sull'opzione, per il schermo di color, che può essere fatto per richiesto. Potete avere anche la opzione carbon-c-true, dove invece di nero, per esempio, potete avere il carbonio nero. Potete avere un'opzione di accessori, per completare il modello, con la parte città che bisogna per il servo per cercare la verticale. E aggiungere i fiori di fiori di fiori e il servo, per farlo più facile installare i servo nelle vengue. Come per tutte le nostre linee producciano, anche per la Swiss Autodoo 32, sono disponibili per le vengue e per i fiori di fiori. Se avete bisogno di più informazioni o avete qualche domanda, non siete sbagliati, contattiamoci, siamo qui per rispondere. E come per tutti i nostri modelli, la migliore di allenamento è la felicità dei modelli che abbiamo sui modelli, Ciao! Ciao!